Il consigliere regionale di Laboratorio Basilicata Fratelli d'Italia, Gianni Rosa, ha presentato una mozione affinché la giunta regionale revochi tutte le long list di collaboratori esterni a tempo determinato in regione negli enti subregionali, annullando anche le selezioni in essere che non rispettino la delibera numero 377 del 2012 del Consiglio regionale. Il 3 febbraio scorso, sottolinea Rosa, il Dipartimento Ambiente ha approvato la nomina della commissione che selezionerà i candidati per assistenza specialistica presso la stessa struttura, a fine di aggiornare una long list istituita nel 2012. Tale determina, aggiunge Rosa, è in contrasto con la delibera numero 377 nata su mozione dell'FD che richiede la selezione pubblica per titoli ed esami nelle collaborazioni esterne a tempo determinato in regione negli enti subregionali. Con la mozione Rosa chiede altresì che la giunta regionale possa, oltre al rispetto della norma, informare ufficialmente i responsabili dei dipartimenti.